Ciao a tutti dalla Mente tra le Pagine e benvenuti in questo nuovo video in cui vi ho portato un'analisi psicologica un po' particolare, ovvero in questa analisi ci concentreremo sui 10 motivi psicologici per i quali Bulma, Shelto, Vegeta rispetto Yamca. Tuttavia, prima di procedere con la nostra analisi, è sempre bene fare le nostre solite due premesse. Per prima cosa è bene dire che le mie analisi sono analisi psicologiche che si rivolgono personaggi immaginari, quali personaggi dei film, libri, fumetti, ma anche dei videogiochi. Nulla hanno a che fare, nulla devono avere a che fare con analisi psicologiche che si rivolgono persone reali. Seconda cosa è bene dire che se non avete mai visto l'episodio di Dragon Ball, vi consiglio prima di guardare qualche episodio in cui compaiono Bulma, Vegeta e Yamca, prima di procedere con la visione del video. Detto questo, possiamo iniziare assieme la nostra analisi. Il motivo per il quale Bulma potrebbe aver preferito Vegeta rispetto Yamca è il cosiddetto fascino dell'opposto, ovvero Bulma potrebbe aver trovato affascinante la personalità opposta di Vegeta, opposta rispetto a quella di Yamca, poiché, mentre Yamca è più rilassato e socievole, Vegeta è distante e misterioso e ciò crea una sfida emotiva che potrebbe aver attirato la nostra Bulma. Il secondo motivo invece potrebbe essere connesso all'ambizione e alla determinazione. Bulma potrebbe essersi sentita tratta dalla forte ambizione e determinazione di Vegeta nel raggiungere i suoi obiettivi, in particolar modo i suoi obiettivi personali. Questo tratto di personalità di Vegeta potrebbe aver suggerito Bulma che avrebbe avuto un partner che non si sarebbe accontentato di una vita mediocre. Veniamo poi all'evoluzione del personaggio. Vegeta ha mostrato una significativa crescita e cambiamento nel corso della storia di Dragon Ball. Da un individuo egoista e violento è diventato un eroe protettivo e ha sviluppato un senso di responsabilità nei confronti degli altri. Questa evoluzione potrebbe aver colpito emotivamente Bulma e averle dato speranza che anche lei avrebbe potuto influenzare positivamente lo stesso Vegeta. Un altro punto forse un po' più complesso è la compatibilità intellettuale, ovvero Bulma, essendo una brillante scienziata, potrebbe aver trovato una maggiore compatibilità intellettuale con lo stesso Vegeta. Entrambi sono dotati di intelligenza strategica e affinità per la tecnologia, creando così una connessione su un piano mentale molto profonda. Vegeta nella serie è noto per il suo ruolo di protettore e dimostra una grande forza e abilità nel combattimento. Bulma potrebbe aver trovato un senso di sicurezza e protezione nel suo rapporto con Vegeta, soprattutto considerando l'universo pericoloso in cui vivono. Quindi un'altra ragione potrebbe essere per protezione e sicurezza. Altro punto da considerare è il potere dell'amore trasformativo. Bulma potrebbe aver creduto nel potere dell'amore o meglio nel trasformare una persona. Essendo testimone delle trasformazioni di Vegeta da un guerriero spietato a un individuo più compassionevole, potrebbe aver nutrito la speranza che il loro amore potesse influenzare positivamente la personalità e il comportamento di Vegeta stesso. Abbiamo poi le dinamiche di potere. Le dinamiche di potere possono essere molto attrattive per alcune persone. Bulma potrebbe aver trovato intrigante la dinamica di potere che si sviluppa nel suo rapporto con Vegeta, mentre Yamca potrebbe rappresentare una relazione più equilibrata. La presenza di una dinamica di potere con Vegeta potrebbe aver aggiunto una sorta di sfida emotiva che ha stimolato l'interesse e l'attrazione di Bulma. Molto importante è anche il superamento delle sfide. Bulma potrebbe aver trovato gratificante affrontare le sfide e le difficoltà che sorgono nel rapporto con Vegeta. Questo potrebbe averle dato un senso di realizzazione personale nel superare gli ostacoli e nel costruire una relazione duratura. E poi un altro lato che possiamo chiamare in gergo lo fattore bad boy, ovvero Bulma potrebbe essere stata attratta dall'aspetto bad boy di Vegeta. La sua natura ribelle, combinata con una certa dose di mistero e un lato scuro, potrebbe aver suscitato una certa attrazione e fascino per la nostra Bulma. Vi è un lato di Yamcha che è molto infantile, estremamente infantile e questo suo infantilismo cozza un po' con la personalità di Bulma che ne risulta infastidita. Vegeta d'altro canto ha un atteggiamento molto più maturo, ha un atteggiamento estremamente molto meno infantile se non assente in questo lato e quindi dà maggior sicurezza a Bulma e soprattutto gli dà anche la maggior certezza di poter fare discorsi seri, discorsi seri di stabilità di coppia. Vi è anche una connessione emotiva molto profonda. Alla base di tutto Bulma potrebbe aver sentito una connessione emotiva profonda con Vegeta che non ha mai sperimentato con Yamcha. Questa connessione potrebbe essere stata alimentata da momenti di vulnerabilità e intimità che hanno creato un legame più forte e significativo fra i due personaggi. Vi è anche una maggior fedeltà e stabilità di Vegeta. Mentre Yamcha era considerato un po' come il Don Giovanni, Vegeta quando si lega a una compagna si lega a una compagna per la vita e ciò ha fatto sentire Bulma più sicura della sua scelta, poiché questa qualità potrebbe aver rassicurato Bulma sulla durata e l'integrità della relazione stessa, creando anche un senso di sicurezza e fiducia in questo legame. Ricordiamo per l'appunto che secondo la psicologia evoluzionistica le donne sono tratte dall'uomo che in qualche modo si mostra più rude, dall'uomo che in qualche modo si mostra anche a livello fisico più forte, più potente, oltre che a livello psicologico. Perché questo? Questo è spiegato dalla psicologia evoluzionistica dicendo che un tempo le donne per conservare la propria prole, per far sì che i propri figli sopravvivessero si legavano ad uomini forti, a uomini forti sia fisicamente sia psicologicamente e questo lato caratteriale dell'uomo forte è un qualcosa che proviene da tempi arcaici e che è ancora instillato nella mente e nella psiche, barra nell'inconscio delle donne. Infine possiamo dire qualcosa sul livello caratteriale dei personaggi. Bulma ha l'archetipo della madre, è una persona accogliente, dolce, è una persona gentile, sempre disposta a sacrificarsi per il benessere degli altri. Mentre Vegeta ha l'archetipo del padre, ovvero una persona rigorosa, è una persona che spesso giudica gli altri e che sottolinea le debolezze degli altri. C'è anche complementarietà in questo, in quanto Vegeta cerca una figura dolce e accogliente e Bulma cerca in qualche modo una figura un po' più rigida, un po' più autoritaria. Il loro carattere si completa benissimo anche in questo. Sì, è vero, anche Yamcha ha un archetipo paterno e quindi ha un carattere molto rigido, ma ricordiamo che molto spesso Yamcha è vittima, tra virgolette, di un certo infantilismo che a Bulma dà molto fastidio e ciò gli fa rompere i rapporti e ciò impedisce la comunicazione tra questi due personaggi. Ricordiamo poi un lato caratteriale molto importante di questi due personaggi, ovvero mentre Bulma è una gran chiaccherona, Vegeta invece è spesso raffigurato come un individuo estremamente taciturno e silenzioso. Questo può influenzare anche la crescita emotiva tra questi due personaggi, in quanto Bulma può spingere Vegeta ad essere molto più aperto ed espansivo, facendolo crescere in qualche modo a livello emotivo. Di controparte invece Vegeta può, con il suo atteggiamento, spingere Bulma ad essere tra virgolette un pochino più riservata, ad essere tra virgolette un pochino più silenziosa, senza avere il bisogno di dire tutto ciò che gli capita alle altre persone, ma magari garantendo anche una maggior privacy. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questo video, vi ringrazio un'ulteriore volta per essere stati in mia compagnia. Io vi invito sempre a condividere il video con quante persone più possibili, in modo che anche altre persone interessate si avvicinino a questi argomenti. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a lasciare un bel mi piace. Fatemi sapere anche se vi è piaciuto, barra, vi interessa anche questo formato di video, in modo che magari in futuro posso realizzare altri video con lo stesso formato. Io vi ringrazio, un caro saluto dalla mente tra le pagine. Ciao e al prossimo video. Ciao.